Quando finiscono i tempi o i bambini di questo? Quello là Oh, street parade Oggi che giorno è? Superfizionismo, oggi è Oggi è 9 maggio 2009 Giornata mondiale antiprofizionista Stiamo sfilando in tutte le capitali d'Europa, del mondo A dimostrazione del fatto che non è una droga Non lo sarà mai per noi Guarda questo, guarda come è in giro questo Oh, ci andiamo Guarda questo L'hai visto? L'hai visto? L'hai visto? Questo mi ha lanciato L'hai visto? Quello no? Questo bisogna levarlo Grazie a tutti Grazie a tutti.